Radio Radicale, siamo con Mario Tassone, che come sapete è stato per tante legislature parlamentare, è stato deputato credo dal 1976 in poi, è stato anche vice ministro alle infrastrutture, insomma ne ha viste tante e ha celebrato chissà quante volte il 25 aprile, che una volta era una festa dove c'erano delle belle celebrazioni, non si cercava lo scontro, non c'era come dire l'ostentazione dell'antifascismo, era una festa di libertà in cui si rifletteva sulle conquiste che erano state fatte senza dividere così in due il paese con le piazze spaccate che abbiamo visto ieri. Allora che cosa sta succedendo secondo lei e che cambiamento c'è stato dalla Prima Repubblica ad oggi, nel 25 aprile? Si ricordava in questo momento un periodo di grande esaltazione, quando si viveva il 25 aprile con grande passione, con grande tensione ideale, un riferimento ai valori, un riferimento alla storia, a quella che era stata il travaglio, la nascita della nostra Repubblica, la conquista degli spazi di democrazia e di libertà dopo vent'anni di dittatura, dopo una guerra distruttiva, per cui il 25 aprile era una festa dell'unità, di una raggiunta unità, quando il popolo italiano nel 1945-46 riconquistò non soltanto la sua dignità, le sue spazi di libertà come diceva Vocanzi, ma soprattutto riconquistò ovviamente l'unità, in un clima di grande solidarietà, di grande partecipazione, di grande coinvolgimento. Adesso la politica non c'è più, non esistono i partiti, non esiste il movimento di pensiero, per cui già è pianificato lo sconto, sono pianificati i tafferugli nelle manifestazioni, è già un fatto programmatico, è già una storia che si ripete continuamente, con le varie edizioni, l'aggressione alla brigata ebraica, contro gli ebrei, e quindi gli scontri che sono ovviamente uno simile rispetto a quello che invece era il significato del 25 aprile, che era un fatto di solidarietà. Lei si ricorda fino al 1993, un 25 aprile dove la gente si menava, si incontrava in piedi? No, non lo ricordo, no, non lo ricordo. C'era sempre qualche perplessità da parte di una certa passione politica, di far prevalere anche la sua posizione, per quanto riguarda la resistenza, e l'esistenza ha avuto le sue articolazioni, è stato anche un movimento importante, ma anche compresso nel suo interno. E c'erano più che altro delle rivendicazioni di supremazia, di ruoli, ma che ci fossero pianificati gli scontri, questo qua non lo ricordo. Io ripeto, gli scontri ovviamente si sono andati via via manifestando, come fatto di intolleranza. Le intolleranze in questo paese hanno preso il sopravvento sulla politica, sul dialogo e sul confronto. Senta, ha avuto l'impressione che il 25 aprile fosse, diciamo, una celebrazione tesa a colpevolizzare chi ci governa oggi, presentandolo come l'erede di quel fascismo del 1900. C'è stato, secondo lei, questo tentativo? Ma non lo so, ma anche... Sul quale, per esempio, sono andati dietro alcuni grossi giornali, alcune... Sì, ma c'è stata qualche situazione, certo. Chi ci governa oggi ha una maggioranza molto chiara, soprattutto un disegno che si manifesta. Io, però, che ci sia... Però, queste vicende sono state anche nel passato. Oggi c'è una realtà, certamente alcune dichiarazioni sono che i fascisti di ieri che sono stati sconfitti, oggi ritorno sotto altre... Senta, ritiene che sia un fenomeno strano il fatto che passano gli anni, ci sono meno, diciamo, persone che hanno vissuto quella stagione e però lo scontro si inasprisce sempre di più. È una cosa che... Quelli che hanno vissuto, hanno vissuto i travagli, i drammi, le tragedie. Cioè, che paradossalmente, quelli che hanno vissuto le tragedie, non si scontravano in piazza quando facevano... Quelle visioni di te non ci sono più. Adesso ci sono i commentatori, gli eseggeti, gli eredi. Ovviamente, che vivono anche con elasticità e soprattutto vivono l'attualità con una grande larghezza di vedute, tra virgolette, senza un aggancio a quelle che sono le tensioni forti che soltanto chi l'ha vissuto, i drammi, le tragedie, le sofferenze, i martiri che poteva rappresentare in quel momento. Non c'è questa testimonianza di un momento e quindi con l'auspicio e il desiderio di migliorare, ecco, di conquistare. Sempre le garanzie di osservanza, di rispetto, di diritti e soprattutto della libertà e dell'indipendenza. Quello che si faceva nel 25 aprile, si metteva a confronto, che cosa ha significato per il nostro Paese? aveva perso la libertà, aveva perso la vera e più spazio di democrazia e perciò la lotta per riconquistare e rafforzare la democrazia e la libertà. Oggi gli scontri ci portano con un passo indietro. E un commento lo devo fare, purtroppo, in questo particolare momento. E' inutile dire che questo è fascista, quest'altro è fascista. Mi pare che è un fatto denorante in un'attualità. Il fascismo è una cultura, è stata anche una cultura, un modo di pensare. E certo il disegno, io l'ho sempre detto, non ho ovviamente nessuna lembra, il disegno del premierato fatto in quel modo è un'eversiva. intanto per intenderci, e allora una preoccupazione, una riflessione, una riflessione bisogna farlo. Ma non voglio dire che il Presidente del Consiglio e del Ministro, per carità di Dio, nasce da una sua visione. Certo c'è uno sbocco, c'è una prospettiva verso l'autoritarismo che certamente non si sintonizza con quello che è lo spirito del 25 aprile o quantomeno di tutto quello che è stata la lotta di liberazione, la conquista della democrazia, ma soprattutto la fase dell'impianto e soprattutto la costruzione del fondamento della nostra Repubblica e della nostra Costituzione. Lei preferisce definirsi antifascista o democratico? Ma io sono antidemocratico. Antidemocratico, no? Io sono democratico e chi è democratico certamente non condivide nell'autoritarismo, nelle dittature e soprattutto una storia, quella storia che è stata nefasta e in fausto per il nostro Paese. Lei lo vede questo pericolo oggi? Solo sul premierato? La vede sul premierato? Io sul premierato sono molto inquieto. Anche perché al di là delle manifestazioni... Ci sarà anche un referendum, se nel caso... No, ma quello che mi colpisce, lo dico con estrema chiarezza, non è tanto le manifestazioni che ci sono. E questa accettazione è da parte di tutti. E dove l'opposizione è una posizione di facciata. La contestazione del mondo della cultura è così soltanto informale e accademico. Non c'è una grande presa di coscienza. Come se il diroccamento del Parlamento fosse un fatto essenziale, fondamentale per alleggerire il peso, degli impacci, che il Parlamento può rappresentare dei lavori, condizionare l'attività e soprattutto minare all'efficientismo anche dell'esecutivo. Certo, con il disegno che c'è in atto, del premierato, c'è una prevalenza dell'esecutivo e soprattutto uno svuotamento continuo del Parlamento. Questo è un fatto preoccupante. Ho capito. Ma c'entra col 25 aprile? Non c'entra... C'entra con tutti, ma c'entra anche col 25 aprile, c'entra con il 2 giugno. E c'entra con la nostra storia democratica. Il problema è camminare verso la strada dell'afforzamento della democrazia, della partecipazione e senza manomettere quelle che sono le fondamenti della costruzione del nostro Paese, della costruzione di libertà e per cui c'entra tutti i passaggi, c'entra la storia di questo Paese. E nel 25 aprile doveva essere, questo è il fatto negativo, doveva essere l'occasione per riflettere e non per lo scontro, i piccoli scontri strumentali, che sono scontri strumentali che poi non valgono niente, non costruiscono niente. Invece la riflessione doveva essere fatta. Ma chi la fa oggi la riflessione? Se non esistono più i partiti, le forze sociali, la politica non c'è più. Lo diciamo, quando la politica non c'è più è questo. Allora è lasciata la piazza, i piccoli scontri che fanno la storia. Se noi dobbiamo fare la storia con i piccoli scontri, dei tafferugli o degli insulti che si fanno in una manifestazione che deve essere una manifestazione di solidarietà, vuol dire che veramente il processo di maturazione di questo nostro Paese ovviamente trova l'ostacolo e va molto a rilento. Grazie come sempre a Mario Tassone.